Direttore iniziata la seconda parte della Masterclass, quali attività e iniziative comprende? Fanno con Ruggeri ha una grande potenzialità, quella di esprimere una personalità a livello nazionale e internazionale che è il nostro Ruggero Ruggeri, ma quando parliamo di Ruggeri dobbiamo subito prendere in considerazione Pirandello perché in effetti il loro è un rapporto solidale, ideale, qualcosa che fa crescere la storia del teatro ma anche tutto quello che è praticamente lo spettacolo in Italia. Pensate ai sei personaggi in cerca d'autore, con quella operazione Ruggeri diventa il riferimento ideale di Pirandello perché Pirandello lo scrive per lui e proprio ieri sera al Politeama abbiamo presentato La Stranezza con due comici, Ficare Piccone e Servillo che appunto faceva Pirandello e per far capire che l'opera, i sei personaggi in cerca d'autore nasce per Ruggeri e diventa qualcosa di un patrimonio internazionale. Quando a un certo momento parliamo di Ruggeri diciamo che Fanno diventa immediatamente riconoscibile e proprio per questo motivo continuando il progetto Ruggeri attraverso i nostri sostenitori che sono la Fondazione Carifano, il Comune, la BCC, la Fondazione Teatro e la Rocca abbiamo pensato di portare avanti un progetto che dal maggio scorso arriva a compimento il prossimo anno quando presenteremo allora una sorta di interpretazione del teatro di Pirandello interpretato da Ruggeri e si chiamerà appunto L'uomo dal fior in bocca. Cosa succederà domani alla Rocca Malatestiana alle ore 18? Non ci sarà l'uomo dal fior in bocca ma i giovani di questo premio Ruggeri che è nato appunto qui a Fanno diventeranno protagonisti di qualcosa che è di creativo che penserà di prendere in considerazione non il punto di vista dell'uomo ma della donna. Infatti alle ore 18 alla Rocca Malatestiana ci sarà la donna dal fior in bocca un incontro prova aperta che cercherà di portare avanti il percorso creativo di questa grande personalità del teatro italiano che è nato a Fanno.